Ben trovati dal TG Crona che dunque erano circa le 23 e 30 di ieri sera quando il treno regionale Torino-Ivrea ha travolto un tir all'altezza di un passaggio a livello. L'incidente ha causato la morte di due persone, sono il macchinista del treno e l'autista del mezzo di scorta del trasporto eccezionale. 23 persone sono rimaste ferite tra le quali gravemente la macchinista del treno è successo a Caluso nel Torinese. L'autista del tir al momento è indagato per disastro ferroviario e omicidio plurimo. Ancora però da chiarire le dinamiche. Adesso vediamo la ricostruzione di quanto è successo ieri sera e poi ci colleghiamo con il nostro inviato. Il tir sta sul passaggio a livello. Ferrovia a binario unico Torino-Ivrea. Il suo carico un container vuoto spiaggiato 50 metri più avanti sopra un campo di grano ad Are, una frazione di Caluso sulla strada statale 26 fra Chivasso e Aosta del Torinese. Potrebbe essere stata la manovra azzardata dell'autista. Un lituano partito dalla Repubblica Ceca è diretto in un'azienda da qui vicino a provocare la tragedia ieri sera verso le 23 e 30. L'uomo è indagato per disastro ferroviario. Ci sono due morti. Il macchinista del treno regionale 10027, Roberto Madau, 61 anni, vicino alla pensione, e Stefan Aureliano, 64 anni, romeno, l'ha detto alla scorta tecnica del convoglio. Un trasporto eccezionale. I tir erano due. I feriti sono una ventina. La più grave una donna, Capotreno. Era praticamente tutto sulla destra, rannicchiato in un conicolo come la signora, la Capotreno. E mi diceva di darmi la mano, le dita, diceva che le mancava l'aria, non riusciva a respirare, non sentiva più le gambe. Cosa sia successo ancora non è del tutto chiaro. Paolo Ardizzo abita proprio davanti al passaggio a livello. Dice che per semplificare la manovra l'autista avrebbe preso la strada contro mano. Praticamente ha preso la corsia contraria. Contro mano. Contro mano. Perché? Perché è la parte più larga per far passare questi mezzi. Quando è arrivato sulla ferrovia ha visto scendere la barra e lui al posto di andare avanti e buttare giù la barriera si è bloccato e ha fatto per tornare indietro e praticamente in quell'attimo è arrivato il treno. Avrebbe preso la strada contro mano forse per evitare una curva o perché più probabilmente toccava col cassone proprio la sbarra del passaggio a livello. Poi una volta sul binario potrebbe essere rimasto fermo per controllare che non avrebbe urtato i cavi. La scorta stava cercando di capire da quello che ho sentito se era passava o meno sotto un filo e le sbarre sono andate giù e sono rimasti prese dentro. Fatto sta che la sbarra si è abbassata e il tir è rimasto prigioniero sulla ferrovia. Di solito i trasporti eccezionali devono avvisare la rete ferroviaria in casi come questi e talvolta viene previsto anche l'impiego sul posto di personale della rete secondo un'indiscrezione. Non c'erano state segnalazioni. L'autista non sarebbe riuscito a fare marcia indietro o a procedere abbattendo la sbarra. Il suo collega dice che fra l'allarme del passaggio del treno e la discesa della sbarra sono passati solo pochi secondi e i pendolari in passato sulla linea avevano segnalato disservizi ai passaggi a livello. Il binario in quel tratto è il rettilineo. Si va fino a 120 all'ora a bordo del treno. L'ultimo della giornata c'erano 30-40 passeggeri. È stato un colpo violentissimo. Poi buio e morte. Allora questa dunque la ricostruzione. Abbiamo sentito le testimonianze. Adesso andiamo da Guy e Chiappaventi, il nostro inviato che si trova di fronte alla procura di Ivrea. Guy. Sì, buongiorno. Mi sono spostato a Ivrea da Caluso perché era atteso ormai da quasi un'ora, mezz'ora, un'ora, l'autista Darius Zis, 39 anni, di Tuano, che fino a questo momento è l'unico indagato in questa vicenda per disastro ferroviario e omicidio plurimo. L'uomo però non è ancora arrivato qui al Palazzo di Giustizia e non è escluso che l'interrogatorio sia stato spostato in un altro luogo, per esempio in una caserma dei Carabinieri o a Caluso stesso. Dicevo che l'unico indagato viene considerato, però adesso dai magistrati, secondo quel ricordo che risulta, una figura non centrale nell'inchiesta. Come Polizia Giudiziaria procede la Polfer, la Polizia Ferroviaria. Si vuole capire sostanzialmente se tutti i passaggi che erano stati fatti per portare quel carico speciale, quel carico eccezionale che avete visto nel servizio, due enormi tir che portavano poi dei container che dovevano contenere la ghiaia, erano quasi arrivati a destinazione, mancavano 8-10 km, avevano tutte le autorizzazioni, avevano fatto tutti i passaggi burocratici necessari per arrivare lì. Quella è una piccola strada statale, la stradale 16 della Val d'Aosta, è un piccolo passaggio a livello, le sbarre non si chiudono neanche completamente, sono mezza sbarra soltanto per la direzione di marcia, quindi imboccando la contromano si sarebbe poi trovato l'autista la strada chiusa. Si vuole capire soprattutto, quello era l'ultimo treno che passava di, poi avrebbero ricominciato il giorno dopo, si vuole capire se erano state avvisate anche le ferrovie. Da RFI, da quello che trapella, da quello che è stato confermato al Tg la 7, non era stata fatta alcuna segnalazione, in questi casi viene spiegato, persino lo scritto nel servizio, si fa andare personale della rete ferroviaria sul posto, perché in taluni casi può essere anche necessario togliere la rete elettrica e poi bisogna verificare se fosse quello un punto idoneo per far passare un carico di quel tipo. Dicevo, l'inchiesta è soltanto all'inizio, bisognerà ricostruire tutti i passaggi, presto probabilmente ci saranno altri indagati, l'interrogatorio dell'autista è sicuramente in corso, non si sa ancora bene dove però. Bene, grazie. Grazie al nostro inviato Gui Chiappaventi. Intanto in Italia è tornata Farah, la studentessa di 19 anni, pakistana, che è stata costretta ad abortire dai genitori dopo essere stata portata in Pakistan con inganno. È tornata questa mattina appunto in Italia, è stata accolta in questura a Verona, ha raccontato ciò che le è successo, ma soprattutto quello che preme agli inquirenti è quello di valutare eventuali misure di tutela nei confronti appunto della ragazza. È tornata in Italia, come era suo desiderio, per iniziare una nuova vita dopo la terribile esperienza subita in Pakistan. Farah è atterrata questa mattina all'aeroporto di Malpensa e poi è partita per Verona, la città dove vive fin da quando era piccola. In queste ore la 19enne pakistana è ascoltata dagli investigatori in questura per raccontare quello che le è accaduto Islamabad, i sopprusi che dice di avere subito dai familiari contrarie alla sua unione con un coetaneo italiano, anche lui di origini pakistane, Christian. Farah è finalmente tornata in Italia e si trova adesso in un luogo sicuro, ha fatto sapere il ministro degli esteri Angelino Alfano, ricordando il ruolo dell'ambasciata italiana e la collaborazione con le autorità pakistane che hanno permesso di trovarla. Il fidanzato ha detto non l'ho ancora sentita ma spero di poterla vedere presto. Da lui Farah avrebbe avuto un figlio se i suoi familiari non l'avessero costretta ad abortire in Pakistan. La storia di Farah è venuta alla luce perché lei è riuscita a chiedere aiuto al ragazzo e alle amiche mandando degli sms. La famiglia l'aveva convinta ad andare alla ore con il pretesto del matrimonio di un fratello, ma una volta arrivata i suoi documenti vengono fatti sparire e lei viene segregata in casa dove ha subito l'aborto che non avrebbe mai voluto. Dopo che le amiche hanno denunciato la sua scomparsa il caso è stato preso in mano dalla farnesina e l'ambasciatore italiano Stefano Pontecorvo si è adoperato con le autorità locali per trovare la ragazza e la sua famiglia. Farah è stata rintracciata, liberata e ospitata nella residenza dell'ambasciatore Islamabad finché non è stato possibile organizzare il suo rientro. Ora saranno gli inquirenti a stabilire se ci sono gli estremi per procedere contro il padre, già sotto processo per maltrattamenti nei confronti della figlia. La ragazza era già stata allontanata in passato dalla famiglia aveva trascorso un periodo in una struttura protetta del comune di Verona, ora in un luogo sicuro da cui poter ricominciare. Un'opportunità che invece non ha avuto Sana Cima, 26enne, italo-pakistana, residente a Brescia dove aveva un fidanzato scelto da lei, diverso da quello deciso dalla famiglia che voleva un matrimonio combinato. Lei dal viaggio nel Punjab non è mai tornata, il padre ha ammesso di averla strangolata per il disonore del suo rifiuto alle nozze. Ma quello dell'immigrazione resta sempre un tema in primissimo piano, con le notizie di oggi che parlano di un nuovo salvataggio a largo delle coste della Libia, c'è un'imbarcazione in difficoltà a bordo, ci sono circa 200-300 persone, le notizie sono ancora frammentarie sul posto, stanno arrivando i volontari dell'ONG tedesca Sea-Watch. Ma nel frattempo dal Viminale escono gli ultimi dati sugli sbarchi nel nostro paese che confermano una diminuzione. Un altro barcone alla deriva a largo della Libia, in acque internazionali. Questa volta sono intervenute le imbarcazioni delle ONG tedesche Sea-Watch e Sea-Eye. A bordo c'erano almeno 200 migranti, l'ha comunicato la Guardia Costiera. Salvataggi che dunque proseguono in quel tratto di mare, anche se da mesi il flusso si è molto ridotto. Ne dà conto il Ministero dell'Interno che nel fornire i dati sugli ultimi 11 mesi rivendica il lavoro svolto per frenare l'arrivo dei migranti sulle nostre coste. Dal Viminale arriva infatti la conferma che gli sbarchi nei nostri porti sono in calo per l'undicesimo mese consecutivo. Tra il 1 luglio del 2016 e il 24 maggio del 2017 erano sbarcati circa 161.000 migranti, mentre dal 1 luglio 2017 ad oggi ne sono arrivati solo 46.423, quindi circa 115.000 in meno. Durante questo mese di maggio gli arrivi sono stati 1.341 all'89,91% in meno rispetto al mese corrispondente dell'anno scorso. Se poi si fa riferimento solo ai migranti provenienti dalla Libia scopriamo che la forbice è ancora più ampia, il 96,53% in meno. Dall'inizio dell'anno ad oggi sono arrivate 10.808 persone rispetto ai 50.524 dello stesso periodo dell'anno prima. Cala anche il numero dei minori stranieri non accompagnati sbarcati, 1.643 al 21 maggio contro i 15.700 relativi a tutto il 2017 e addirittura i 25.800 del 2016, anno più critico per quanto riguarda gli sbarchi in generale. In particolare ad ottobre, quando solo in quel mese ne arrivarono più di 27.000 di tutte le età, quest'anno per lo più tunisini il 22% ed Eritrea il 18%. La politica di contenimento del fenomeno ha dunque prodotto risultati nonostante le accese polemiche sul ruolo delle organizzazioni umanitarie, alcune delle quali abbandonarono le operazioni nel canale di Sicilia dopo gli accordi di agosto con le autorità libiche. Ci sono inchieste aperte da alcune procure sulle emissioni di salvataggio delle ONG e le accuse rivolte da queste ultime al governo di rinunciare a proteggere i migranti in fuga dai campi di detenzione in Libia. E questa mattina a Roma c'è stato un blitz della polizia municipale in un campo nomadi. L'insediamento era stato chiuso nell'ottobre dell'anno scorso ma ancora era occupato. Circa 400 rome che risiedono all'interno si sono inizialmente barricati chiudendo gli accessi con i lucchetti. Dopo qualche ora però i nomadi hanno accettato di far entrare le forze dell'ordine. E c'è un altro caso che stiamo seguendo ormai da tempo ed è quello del batterio Xylella che ha decimato migliaia e migliaia di ulivi a partire dal Salento. La quarantena si è estesa anche fino alla valle di Itria ed è arrivata alle porte di Bari. Alla fine è accaduto quello che tutti in Puglia temevano, lo spostamento della zona di quarantena del batterio killer degli ulivi di altri 20 chilometri verso nord fino alle porte di Bari. Lo ha deciso il Comitato Fitosanitario Permanente di Bruxelles che ha così coinvolto paesi pugliesi che mai prima d'ora avevano avuto a che fare con la Xylella, Alberobello, Monopoli, Fasano, Martina Franca, Loco Rotondo, l'intera valle di Itria. Solo la settimana scorsa la Commissione Europea aveva aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per non avere fatto abbastanza contro la Xylella, per averle permesso di diffondersi e distruggere in maniera evitabile centinaia e centinaia di ulivi. In cinque anni il contagio ha viaggiato verso nord per oltre 100 chilometri. Una scelta sbagliata, quella di Bruxelles, secondo il governatore della Puglia, Michele Emiliano, tornato a chiedere un decreto del governo per agevolare l'applicazione immediata delle misure fitosanitarie, in deroga, a eventuali vincoli territoriali, ambientali, paesaggistici, architettonici e culturali. Norme straordinarie che devono essere realizzate con un decreto perché, ha spiegato Emiliano, noi non riusciamo ad abbattere le piante dove ci sono i ricorsi al tar degli agricoltori ed oggi abbiamo la prova che tagliare gli alberi immediatamente limita l'espansione della malattia. I più preoccupati di fronte alla decisione di Bruxelles sono gli agricoltori. Di macchia che si allarga, vista d'occhio parla il presidente regionale di Coldiretti, Gianni Cantele, secondo cui esistono anche responsabilità della UE. La mancanza di misure di controllo alle frontiere hanno causato un danno irreparabile alla Puglia, sostiene. A meno di svolte, nella ricerca una cura contro l'axilella non esiste. Si può però agire sull'insetto vettore, la cosiddetta sputacchina, pericolosissima proprio in questo periodo perché ora comincia a volare e a spostarsi di ulivo in ulivo trasportando l'axilella. Contro la sputacchina le nuove norme obbligano all'uso di insetticidi, tra cui uno che è appena stato vietato dalla stessa Commissione europea perché uccide le api. Alcuni sindaci si sono posti alla norma emanando ordinanze di divieto di utilizzo di quell'insetticida, ma ora la regione chiede un dietrofront agli amministratori locali. Annullate le ordinanze, dice, o saranno tutte impugnate al TAR. Non fate lo stesso errore di quando ci fu chiesto di tagliare gli ulivi. Vi ricordo lo speciale sulle consultazioni a partire dalle 16.20, diretto da Enrico Mentana. Adesso vi lascio a Tagadà. Grazie per averci seguito e buona giornata a tutti voi.